Salve a tutti! Se rido è perché qualcuno mi fa ridere. Allora, riparliamo del grande Kierkegaard, il secondo esistenzialista dopo Schopenhauer, nato nel 1813 e morto nel 1855 a soli 42 anni. È l'esistenzialista danese di Copenhagen, più tenace, se posso dirlo più degno forse di portare questo nome, convinto come me, come sono anche io d'altra parte, che il vero sapere corrisponde al vero vivere e il vero vivere si concretizza, si sostanzia nella vera scelta individuale. Kierkegaard è proprio totalmente dubbioso delle scelte collettive egheliane, comprese le scelte ecclesiastiche. Il terzo stadio dopo la vita estetica e la vita etica è lo stadio ultimo, quello della vita religiosa. E questo è per Kierkegaard il più autentico. Kierkegaard è un Pascal dell'esistenzialismo, anche se Pascal ha vissuto più di 200 anni prima, ma se lo ripassate e lo mettete in sinossi, anzi li mettete in sinossi, tutti e due vi sembreranno molto simili. Lo stadio religioso per Kierkegaard è quello più autentico, è quello che apre l'uomo a Dio. È la scelta religiosa di cui parla nella sua seconda grande opera, Timore e tremore. Che attenti bene però, a differenza degli idealisti che avevano ridotto la religione a morale e poi l'avevano di fatto panteisticamente distrutta, per Kierkegaard la scelta religiosa non corrisponde affatto alla scelta etica. Personalmente ritengo molto geniale questa impostazione. Kierkegaard dal punto di vista della chiarezza della saggezza filosofica ci dice che la religione non è un'etica, cioè non sono le buone opere che portano la felicità, perché nelle buone opere etiche in cui uno è convinto di soddisfare se stesso anche Dio, l'uomo è sempre fallace e si scopre in perfetto un tema che come sapete è stato molto caro a San Paolo e si trova in tutte le sue lettere nel Nuovo Testamento. Per la scelta per lo stadio religioso, Kierkegaard prende ad esempio la vicenda di Abramo e di Isacco che ritroviamo nel capitolo 22, versetto 2, soprattutto quando terribile Dio dice ad Abramo, dopo avergli dato il figlio legittimo, il figlio di Sara, di Abramo e di Sara, gli dice prendi il tuo figlio, il tuo unico figlio e va a sacrificarlo sul monte Moriab. Abramo accoglie per obbedienza il comando di Dio e va, poi ci sarà come tutti sanno un lieto fine, ma tanto basta perché Kierkegaard affermi c'è un dissidio enorme tra la fede e la ragione, la stessa cosa che diceva Pascal, Dio comanda un atto totalmente antietico, com'è possibile che Dio chieda a un uomo, a un padre di uccidere il suo unico figlio, avuto peraltro in vecchiaia? E questo perché, ed è la sostanza della scelta religiosa, Dio è scelta assoluta e richiede obbedienza assoluta. Con la nostra mentalità giustamente ci chiediamo, ma che religione è questa? Questa è per Kierkegaard la religione dell'individuo, meglio dire addirittura, mi sembra più azzeccata come espressione, la religione del solitario. Mentre nella vita etica, che di natura sua è una vita sociale, vigono delle regole, salvo poi il fatto che l'uomo si accorga di non riuscire a essere fedele a queste regole, nel rapporto con Dio no, perché Dio è la regola assoluta, la sola regola. Questo porta anzitutto a un termine molto caro a Kierkegaard, l'angoscia. L'uomo vero, anche se giunto allo stadio religioso, è in preda all'angoscia, non perché abbia preso una multa o perché la Roma ha perso, ma perché l'angoscia è proprio la condizione del vivere. Questo è un po' detto in maniera diversa, con termini diversi, la stessa accezione antropologica di Schopenhauer. Kierkegaard prende esempio anche, per esempio, nella Bibbia era Adamo. L'uso stesso che Adamo fa della sua libertà, che poi è un uso sbagliato perché Dio lo lascia libero con un solo limite, lo mette nella possibilità di scegliere e gli crea angoscia. Sentite cosa dice Kierkegaard, il divieto divino rende inquieto Adamo perché sveglia in lui la possibilità della libertà. Ciò che si offriva all'innocenza come il niente dell'angoscia è ora entrato in lui e qui ancora resta un niente, l'angosciante possibilità di potere. Quando Adamo capisce che può, entra in un'angoscia totale. Così anche dice Kierkegaard Gesù sulla croce. Gesù sulla croce, il figlio di Dio sulla croce, è una contraddizione inesplicabile. E' bellissimo quello che Kierkegaard dice. L'angoscia di Gesù in croce non è tanto nel famoso e noto versetto che egli grida, il versetto del Salmo 21, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma è nel detto in ciò che Gesù disse a Giuda quando gli disse, prima di congedarlo nell'ultima cena, quello che devi fare, fallo subito. Infatti nel Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lì Gesù sa già cosa gli sta accadendo. Ma in realtà quando dice a Giuda quello che devi fare, fallo subito, esprime l'ansia dell'uomo Gesù, che è l'ansia condivisa di tutti gli uomini. Però la fede per Kierkegaard, attenti, non è solo questo, è anche l'unica possibilità di riscatto per l'essere umano. Pur non potendo l'io, l'io dell'uomo, il mio io sfuggire all'angoscia che poi apre la disperazione, però se io obbedisco a Dio, in qualche maniera mi affido a Dio con un affidamento prevalentemente però obbedienziale, cioè anche direi in previsione del non capire cosa Dio voglia da me, io però so che a Dio tutto è possibile e così mi calmo. Quando l'uomo riconosce la sua dipendenza da Dio può finalmente rimanere fermo, stabile, ciò che non poteva fare nella vita estetica e nella vita etica. In qualche modo ha superato, per usare un termine della psicologia moderna, la bipolarità dei due precedenti stadi. Però è chiaro che questo cristianesimo di Kierkegaard è un cristianesimo estremamente radicale, rigido. Kierkegaard insiste su questo aspetto per evitare di mettere la firma sotto un cristianesimo di tipo hegeliano, cioè vi ricordate quel penultimo stadio che era valido solo per quello che era presente, non per quello che è. Vi ricordate il quinto punto della fenomenologia dello spirito per Hegel era la religione, ma non perché la religione fosse importante per il cuore, ma solo perché precedeva l'ultimo che era il sapere assoluto. Dio, ci dice Kierkegaard, si coglie nell'attimo, è molto bello questo. Per Hegel l'incarnazione di Dio era puramente l'antitesi, ve lo ricordate? La tesi era la creazione, l'antitesi l'incarnazione, la sintesi, il ritorno di Gesù al cielo. Per Kierkegaard invece è una bellissima frase che sarebbe bello imparare, soprattutto per chi crede, l'incarnazione è l'inserimento dell'eternità nel tempo, molto bella. Diciamo l'eterno che si inserisce, si mette nel tempo, cioè la contraddizione in sé, l'eternità e il tempo sono due contraddizioni. Molti hanno paragonato Kierkegaard per questo a Pascal, però attenti perché Pascal visse l'ultima parte della sua vita in una comunità, quella di Port Royal dei jansenisti, però benché Kierkegaard fosse più un solitario, entrambi si sono posti e hanno posto alla filosofia il grande problema del senso della vita. Quando era giovane Kierkegaard si laureò con una tesi su Socrate che gli piaceva tanto, gli piaceva tanto l'ironia socratica, però mentre l'ironia socratica era quel che era, perché in qualche maniera sbugiardava tutte le verità preconfezionate e così Kierkegaard voleva fare con Hegel, il nostro Kierkegaard aveva più che l'ironia un sano umorismo, forse dovuto anche al distacco portato dalla fede, è comunque stato un grande uomo e un grande filosofo. Alla prossima! Grazie! 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 Grazie!